Ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale, siamo nel secondo video dove andiamo a provare la modalità di Alcatraz che purtroppo è in squadra in quattro ragazzi Quindi possiamo invitare volendo pure Valeria Stiamo su Alcatraz, la modalità classica in squadre, non mi interrompere mentre parlo con i miei iscritti Sono i nostri iscritti, stiamo con i nostri iscritti, allora quindi siamo sulla modalità Alcatraz Sì sì certo, come no, ora non esageriamo, quindi Battle Royale, classica Alcatraz E' un Battle Royale, ma sì però no Vabbè c'è scritto Battle Royale è un Battle Royale E' ispirata alla prigione di Alcatraz che è sede in San Francisco in California Ah prete, sì che ho scoperto, adesso stando nella lobby, praticamente tu hai presente le abilità che usi in Battle Royale? Guardando adesso proprio solo giocando, tu le trovi per terra Come per terra? Ma che vuol dire? Io trovo, vieni a blocco cello dai Blocco cello, sì sì, ma ci sarà un sacco di gente eh? Eh proprio, un sacco di gente sarà a prescindere perché è una mappa veramente piccolina comunque eh? E' piccola ma caratteristica No no no, è molto bella Ma che cavolo? Ma come cazzo mi ha laggato? No raga, mi sta laggando No, c'ho uno leggendario e è bellissimo C'è c'è gente, c'è c'è gente No 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 no, 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 ma ha sciottato dai, ma che cazzo dici? No raga è improponibile No no, ma cazzo È ingiocabile È ingiocabile 5 possibilità di resurrezione ma perchè 5 guarda un po' tu perchè si ma è ingiocabile così come cazzo fai è ingiocabile raga ora mi è uscito dalla fase pre lag si ma io sento i passi in giro non c'ho un'arma è normale che mi risciottano e vai avanti così per tutto il gioco come gli aspetti dei yoga è infattibile una modalità di merda ho capito sti cazzi il cazzo vabbè 7 giorni frate dobbiamo aspettare 7 giorni a novembre con aprile e giugno il cecchino o fra mi scelgo uno mi scelgo uno eh si ormai neanche mi ricordo più quanti citt'ho fatto quindi da oggi in poi vedrete soltanto il punto interrogativo non un numero io voglio dire soltanto una cosa ma porco di aspetta mi stanno per droppare un'arma il GKS è buono ma dove stai tu bro? eh si tu che numero sei? tu sei il 4 ti posso raggiungere? si vieni mi viene da una mano oddio allora fra aspetta ho capito dove sei ecco ti ecco la cisterna mi ha droppato appena un'arma lo sai? eh si ho capito però vorrei un'arma pure io no vaffanculo chi è? chi è? chi è? ti ha scioltato? ma che mi ha scioltato? l'ho sciolto l'ho sciolto bravo sì però io non c'ho ancora armi cioè c'ho il cucuno e il bianco ma c'è tipo ce la campioniamo brutale è troppo eh sì per forza cioè non è che tu dici c'è alternativa no fra vieni dove sto io vieni dove sto io un attimo oddio che fregna sta zona guarda che fregna sta zona fra te stai a mon culo rispetto a te ho trovato una classe sì la fumogena fra te c'è uno ti sta sparando a soca speriamo che sto a sciogliere non mi ha scioltato stati tranquillo ma l'ho sciolto io tranquillo l'ho sciolto io bro ti ho salvato pure la vita cioè vedi quanto ti voglio bene siamo già in prigione quindi fra aspetta ci sta uno che sta salendo le scale sotto di te aiuto io mi butto cioè non posso rischiare eh bravo vieni dove sto io io me la sto a campera qua ma dopo ma chi eccolo 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 l'hai visto? no fra dietro di te come dietro di me? eh sta là sta su eccolo cristo ma rotto frate aiutami no fra allora mi lagga di brutto mi lagga di brutto vieni mi ancora da dietro ma fanno culo fra sei inutile ma sei fra sei inutile sono morto allo stesso momento tuo ah ci sono stati a tutte e due ma che cazzo di arma c'è sì ma non è ma capisci che ma perché le armi fanno un danno a cucine per la vaca mi chiedo io cioè non perché non abbiamo le armature no non abbiamo le armature uno poi no è ingiocabile ingiocabile no 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 assolutamente no l'airdrop andiamo dall'airdrop tutte e due io ci vado di cattiveria sti cazzi dove sta? con un po' il locus giallo locus leggendario il cecchino non so quanto serva no per un cazzo c'è troppo che c'è un culo che ti c'è ma assurdo dai ma l'avevo l'avevo shottato questo qui che cazzo aspetta 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 me lo scioglio ma lo scioglio eh no aspetta fra eh senti sta a chiudere la safe blow ah cazzo ma 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 dai come cazzo si è compilato aspetta aspetta non me lo chillo boom no 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 ma da quale distanza ma da quale distanza ma è possibile aspetta che mi sta a curare ah no mi sta a reso beh ma da quale distanza allora fra abbiamo soltanto una vita ragazzi scusate se non sto parlando durante questo video però c'è bisogno di tryhard il tryhard è palpabile insomma no 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 è una modalità che fa schifo posso dirlo si si assolutamente sono d'accordissimo perché cioè cioè la mappa è bellissima però fa schifo la mappa ma non è importante la mappa è importante la giocabilità perché la mappa può essere pure una madda ma se è divertente giocarci mi ci diverto uguale no fra mo se dobbiamo giocare a code dobbiamo giocare soltanto a è proprio ma è un problema per me detto sì hg40 giallo dai ma che cazzo di armi hanno che guarda che sciottano in questo modo che cavolo c'è uno c'è uno c'è uno l'ho sciottato l'ho sciottato devi trovare l'arma leggendaria secondo me è una questione di culo fondamentalmente cioè devi trovare il culo cioè ma no 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 raga no 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 assolutamente ricarica cazzo allora io sto sopra il tetto e c'ho paurissima se mi sali pure il tubo mi fai un favore che almeno sta un attimo non più sicuro tra l'uno ci guardiamo alle spalle come facciamo pure quando giochiamo omaeva mou shindeiru nani da dietro non ci credo no raga basta 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 l'ho chiamato l'ho chiamato non ci credo l'ho chiamato basta ho leftato ho leftato ho leftato l'ho chiamato